Il mio personaggio si mette in gioco, la situazione più difficile è sicuramente il diventare padre, è stata la situazione più difficile e continua ad esserlo, insomma penso di non essere mai all'altezza di questo ruolo e quindi sì, è questa. Punti in comune penso questa forte generosità, questa generosità che ha proprio questo personaggio, questo attaccamento, questa abnegazione verso il lavoro, forse troppa, quello penso di avercelo anch'io, però non ho mai messo a repentaglio i miei affetti per niente, faccio un lavoro ben più facile. Diego è un personaggio molto forte e emotivo che poi curiosamente, nel periodo che io giravo la serie mio padre è andato in una casa famiglia e possiamo dire che ha adottato questo ragazzo, io sono andato ad incontrarlo e vedevo nei suoi occhi la tristezza di un ragazzo abbandonato dalla sua famiglia e con la tristezza che ho visto nei suoi occhi ho provato poi a trasportarla da Indiego. Io penso che questo accada sempre, no? Cioè sono sempre i giovani che ci danno la speranza per il futuro, credo che sia una legge dell'evoluzione degli esseri umani, quindi questa serie racconta proprio questo, quanto un adulto possa imparare da un giovane e quanto un giovane possa prendere da un adulto ciò che gli serve, che di base è una testimonianza, che è quella che cerchiamo di dare, no? I giudici hanno una bella responsabilità, no? Quando si ha una posizione di potere, noi siamo molto bravi, io faccio l'attrice, no? Sto a casa, mi trucco, no? Faccio queste cose frivole e guardare una persona che ha il potere e giudicarla è facilissimo, no? Però vacci, là. Volevo ringraziare Francesco Arca perché è un uomo che ha questo connubio, Francesco, è un uomo, quindi non perde la sua virilità, ma ha anche una grande sensibilità, non ha paura di mostrarla. Sono stata molto felice di partecipare a questo progetto ma soprattutto sono stata molto lusingata dal modo in cui il dottor Nardella e degli esposti me l'hanno proposto perché mi hanno telefonato dicendomi questo personaggio si chiama Ernesto, a quel punto io un po' ho detto quindi che devo fare un transessuale pure stavolta dice no, se tu lo fai diventa una donna e quindi devo dire questa cosa oltre ovviamente allusingare Maria Pia ma mi è sembrata una bellissima opportunità per, e questo qui voglio ritornare un attimino seria perché come diceva il dottor Nardella nella mission della RAI sicuramente c'è quella di coltivare giovani talenti, di consolidare i talenti che già esistono ma ho molto apprezzato il fatto che si volesse con questa scelta riconoscere a un'attrice non giovanissima la possibilità di avere un ruolo che era stato in prima battuta pensata per un uomo, visto che nella realtà, lei me lo confermerà, di donne con questi ruoli di comando ce ne sono e come. Quindi vi ringrazio tutti per avermelo permesso, ringrazio Donatella per aver accolto le mie telefonate in cui dicevo ok io lo faccio Donatella ma soltanto se non cambiate una virgola di quello che avete deciso per l'uomo questa donna è una donna ma è stata un'altra parte la donna, nel suo lavoro fa esattamente le stesse cose che fa un uomo e pertanto non voglio che addolcimenti, no, quello che era scritto per l'uomo quello deve rimanere per la donna e ti ringrazio per avermi accolta e per aver ragionato con me anche sulle modalità perché poi questo personaggio era un po' più grande di me quindi c'erano diciamo delle cose da aggiustare e ringrazio tutti veramente ma concedetemi sempre da diciamo da sorella grande di fare il mio più grande in bocca al lupo a tutti questi giovani attori meravigliosi e permettetemelo soprattutto alle mie colleghe giovani della mia squadra che sono state veramente, che hanno tutte un grandissimo talento e a cui auguro il meglio, veramente I personaggi come quello di Salvatore sono personaggi sostanzialmente empatici quindi dotati di una grande umanità e questo dà la possibilità a chi vede, il pubblico che vedrà la serie potrà affezionarsi a tanti personaggi, no, e quindi riconoscersi e sentire loro come se fossero di famiglia dei parenti, insomma, gli vuoi bene ai personaggi di questa serie Io con gli spoiler, nel senso se dico mezza parola poi cado nel dire troppo quindi non lo so se ci riesco, però posso dire che sa che cosa vorrebbe essere e quello che vorrebbe essere è molto simile a quell'uomo lì, ad Alessandro quindi questa relazione da amici e da colleghi è molto forte, è fraterna diciamo è un leitmotiv del loro percorso, di amici, fraterni, famiglia, ecco Alessandro per Marco è come se fosse la famiglia, una famiglia che non ha quindi volevo dire questo, che ci siamo fatti un cuore così e secondo me la parola cuore è più giusta di un'altra parte del corpo perché ci siamo voluti veramente tanto bene e abbiamo voluto tanto bene a questo progetto citando Angela Ciaburri un giorno, mi ricordo che lei disse siamo un reparto noi attori, c'è il reparto trucco, c'è il reparto regia e noi siamo stati un reparto e quando siamo stati in difficoltà nel senso che il lavoro era più intenso siamo stati bene, nonostante le difficoltà, nonostante ci fossero tante scene da girare e credo difficilmente, non voglio dire una cavolata, però difficilmente è successo una cosa simile Ha un rapporto molto forte con il suo collega ma ovviamente entrando anche Alessandro Scudieri nella squadra si crea un rapporto anche con lui diciamo sicuramente l'arrivo di Alessandro turba Linda e quindi visto che comunque Alessandro ha una moglie dovrà cercare di tenere a bada i suoi sentimenti questo sì, non so se ci riuscirà finire alle tre o finire alle due di notte era faticoso ma era una gioia era veramente un luogo protetto mi sentivo serena, mi sentivo accolta non mi sentivo mai giudicata mi sentivo in una famiglia poi abbiamo lavorato per otto mesi quindi davvero con tutti si è creato un certo tipo di rapporto sicuramente per me, soprattutto ho lavorato molto con Antonio e Francesco e sono stati veramente dei grandi colleghi amici, si è creato un fortissimo rapporto con Monica mi sono affidata totalmente e ho sentito fiducia e io avevo fiducia in lei e io avevo fiducia in lei